La quattordicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Professionista dell'anno del trading online. E la Awards va a Mario Bellomare, il boss del trading! Anche qui un grande applauso e un grande entusiasmo per Mario Bellomare, per distinguersi come figura di riferimento nel proprio settore professionale, per saper combinare efficacemente l'analisi tecnica avanzata con una visione innovativa, strategia con cui ottiene risultati significativi e sostenibili. Complimenti a Mario Bellomare, il boss del trading! Ed eccolo qua che riceve il nostro Le Fonti Award! Nel Tempio dell'Economia e della Finanza, giustamente, insomma, è un premio che ci sta a pennello questo! Complimenti al professionista dell'anno trading online! Ancora una foto, perfetto, ecco, ci posizioniamo bene a favore di luce! Questa sera diamo il benvenuto a Mario Bellomare, meglio noto come il boss del trading. Lei è il founder di questo progetto vincente che ha lo scopo di insegnare i trucchi del trading anche a chi non ha una competenza in materia. Ci racconterebbe la sua storia e come è nato il progetto Il Boss del Trading? Sì, il boss del trading nasce ufficialmente nel 2015, ma io ho iniziato a fare trading un bel po' di tempo prima, quindi parliamo di oltre dieci anni, ho iniziato totalmente da autodidatta, quindi all'epoca non c'erano questi guru di oggi e non c'erano tutte queste informazioni sul trading e adesso è diventata la realtà che tutti conosciamo in cui insegniamo alle persone a fare trading online anche se iniziano completamente da zero. Grazie all'applicazione delle sue strategie ha ottenuto un record sorprendente, ottenendo il più 3000% di ritorno sul capitale ed anche per questo è una figura di riferimento per chi desidera imparare a fare trading da zero. Cosa distingue la sua attività di coaching dai competitor? Beh, questo di solito lo lasciamo dire agli altri, quindi alle persone che ci seguono e usufruiscono dei miei servizi, ma come ha detto lei stessa è proprio il risultato la discriminante, quindi fare un record di oltre il 3000% di ritorno sul capitale è una cosa assolutamente inedita e quindi mi focalizzerei molto proprio sui risultati e non tanto sulle parole. Quindi quello che dico sempre ai miei ragazzi, quando scegliete un mentor e tra virgolette volete affidarvi a qualcuno per fare trading online, guardate soprattutto la sua storia, quindi da quanto tempo online, se ci mette la faccia e soprattutto se fa realmente soldi con il trading e non solamente vendendo corsi. Con il boss del trading penso di aver dimostrato con prove tangibili che noi guadagniamo proprio dal trading e quindi possiamo fornire dei mezzi efficaci a chi ci segue per fare trading in modo profittevole. Questa sera le è stato riconosciuto un importante merito, ovvero quello di essere una figura di riferimento a livello nazionale per la formazione trading. Cosa rappresenta per lei il lavoro delle fonti? Beh ovviamente sono onorato e come forse si può sentire anche emozionato di essere qui, infatti quando sono stato contattato la prima volta neanche ci credevo, pensavo fosse uno scherzo, probabilmente perché nonostante faccia questo ormai da oltre dieci anni tendo ancora a sottostimarmi, sono talmente preso dal lavoro quotidiano che neanche io stesso a volte mi rendo conto di tutto ciò che abbiamo costruito in questi anni. Quindi quando mi hanno detto Borsa di Milano, premiazione, penso sia il massimo riconoscimento che un trader possa avere ed è l'ennesima prova e dimostrazione che con la perseveranza, con la costanza, con l'impegno si possono ottenere risultati. Quindi grazie ancora. Adesso una domanda sul futuro. Quali sono i suoi obiettivi professionali per i prossimi anni? Sta lavorando a qualche nuovo progetto? Beh progetti per il futuro, andare su un'isola deserta potrebbe essere un'idea, ovviamente scherzo, rassicuriamo quindi che ci serve a casa il boss del trading andrà avanti, abbiamo tanta carne sul fuoco e quindi chi mi conosce nonostante lavori sette giorni su sette, 365 giorni all'anno da dieci anni senza sosta, una pausa ci starebbe, ma chi mi conosce lo sa la mia mente è in continuo fermento, quindi sicuramente ci saranno delle novità che verranno rilasciate a breve per fornire dei mezzi sempre più efficaci per ottenere risultati nel trading e soprattutto sfruttando le nuove tecnologie che abbiamo adesso a disposizione.